Grazie al comune di Gallio, gli alunni di Fozza possono contare su un pasto caldo. Scaduta la convenzione e durata 5 anni, con 4 ristoranti della zona, la mensa scolastica rischiava di saltare. Ma adesso gli oltre 4.000 pasti da servire da inizio a fine scuola sono garantiti. Dalla sede dell'asilo di Gallio, Centro Cucina, opera già una cooperativa bolognese. Il comune fa la spola nel ritirare il cibo e consegnarlo, per la felicità di alunni di asilo elementari e medie.